Allora Marianna, adesso dobbiamo presentare un artista perché l'abbiamo avuto già qua Se come a me piace, come lui canta, quando a me piace qualche ragazzo che canta Lo rinvito di nuovo, finalmente l'abbiamo qua, l'ho cercato, l'ho trovato, l'ho portato Che ha fatto anche un bellissimo duetto anche Sì, ma questa sera vediamo se c'è tempo Ci facciamo ascoltare anche i suoi lavori di scopo Vogliamo chiamare? Giuseppe Berri Ciao bello Ciao Giuseppe Buonasera a tutti Ciao, allora, tutto a posto? Tutto bene Tu sei stato qua, la gente ti ha vista, ti ha detto qualche cosa Ma dove sei andato? No, 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 tranquillito Sono amico con tutti No, no, non c'è già niente l'amico Ti hanno visto, dico, le persone da casa Non c'è già niente Siamo amici Siamo amici Noi siamo con tutti amici I nemici, non interessa Ma poi hanno nuovo Sì, hanno un uomo, un nemico nuovo No, no, vita nuova Buttiamo tutto a mare Tutte a mare, tutte al mare E allora, le canzoni che devi fare? La samba c'è stasera Appicciacata Ma la samba hai fatto pregui? No, appunto Diciamo come si porta il pietro dell'album L'album Scelta di cuore Ah, Scelta di cuore Infatti da Pietro, del signor Pietro, Pietro, Pietro Camano Da Tonino Da Tonino Andate da Tonino a comprare i cd Perché lui è un grande Però c'è tutto Se pietro in qualche cosa Ascoltiamo Giuseppe Bello Grazie Applausi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti